Hai fatto la revisione alla caldaia? Richiedi il bollino al tuo manutentore e certifica il tuo impianto termico. Rendi piacevole ogni momento della tua giornata, migliorerai l'efficienza energetica, la tua sicurezza e ridurrai l'inquinamento. Roma Capitale affida ai tecnici dell'ATI CONTE la verifica degli impianti termici nel territorio comunale. Non farti trovare impreparato. Migliori l'ambiente, migliori la sicurezza, migliori Roma. Noi siamo CONTE. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 960 257.